Innanzitutto la ringrazio per questo prestigioso invito alla sua iniziativa e prendo la provocazione della sua presentazione per parlare proprio di un oggetto in particolare che mi racconta di passato, presente e futuro nel design ed è questo libro, il libro di Vitruvio, che è un oggetto particolare che ormai da tempo è presente sulla mia scrivania per motivi di studi, una vera e propria rilettura fatta in autonomia ma anche insieme a prestigiosi amici ed è qualcosa di anche un po' singolare, direi non romantico e neanche anacronistico perché la volontà è quella di fare un po' questo percorso, ricercare quello che tutti noi progettisti abbiamo un po' come desiderio nel nostro atto progettuale, ovvero il nuovo. Perché riprendere Vitruvio? Perché c'è stato, come dire, ci sono stati dei momenti di incontri, incontri di parole e citerei Jean Nouvel prima e Alberto Campobareza dopo. Primo Jean Nouvel perché lui dice che Vitruvio è un libro di ricette dove mescolando bene gli ingredienti si arriva a un prodotto certo. Invece Alberto Campobareza ci dice non sarà valida un'idea che non può essere costruita e quindi è necessaria la precisione dell'atto progettuale che ci conduca alla costruzione e alla realizzazione di un'idea, quindi di un oggetto, di un'opera architettonica. E questo mi ha stupito perché questo è stato fatto proprio seguendo i riferimenti precisi di quest'uomo che realizzò un testo privo di disegni che per noi in realtà sono fondamentali e peraltro costruendo nella sua vita probabilmente una sola opera. In questo mi viene da parlare subito del presente perché in questo presente una figura importante in questo viaggiare di questi anni e dialogare è stato proprio Vincenzo Latina che mi dice Valentina guarda di fatto è così, nell'opera del passato vi è già il presente. Basta saper scegliere fra le discipline umanistiche, tecniche, scientifiche fra loro contenuti e noi potremmo disegnare il nuovo. In fondo questi tre principi attraversano tutti i tempi e ci apparterranno sempre. E Carmelo Baglivo nelle sue immagini ce lo racconta perfettamente perché ci parla di quelle accumulazioni che raccontano lo stratificarsi del tempo. ci parlano come i tipi dialogano con l'uso, gli usi che sono per noi centrali nel progetto dell'opera, di design, della piccola alla grande scala e ancora sono oggetto di grande dibattito e sono diciamo il focus rispetto al quale noi continueremo ad indagare sempre la forma e forse a parlare di ecoestetica. Eppure il futuro in cosa ci può proiettare? Ecco, il futuro da una parte sicuramente non ammetterà più Vitruvio perché è un futuro democratico, un futuro che rilegge l'esistente tanto da trasformarlo profondamente, ma dall'altra parte in fondo c'è qualcosa che non cambierà mai ed è il metodo. E nel metodo c'è un'entità che attraversa tutti i tempi ed è l'uomo. L'uomo che è il nostro punto di riferimento, siamo noi, siamo al centro, siamo come progettisti e anche come uomini, siamo chiamati a rispondere continuamente alle esigenze e questo porterà sempre alla ridefinizione della qualità dell'opera rispetto alle attività di uso quotidiano, oppure allo scoprire ogni volta, in ogni tempo, la qualità delle nostre città. E tutto questo dove avviene? Come avviene? Forse avviene in luoghi, in punti, in momenti che possono essere definiti per metà tra le perpetuità vitruviane la soglia e l'ornamento, ovvero in quelle che sono le proporzioni degli oggetti che abbiamo in mano e degli spazi che attraversiamo nella materia di cui sono caratterizzati e la qualità che in sé non quindi portano e hanno la capacità di ammettere quelle emozioni che ci cambiano profondamente e che definiscono i caratteri dell'identità dell'uomo in quel momento, quindi l'opera che esprime l'uomo ogni volta nel suo tempo. La riflessione che porto sui tre tempi e spero che sia anche l'inizio di un dialogo proficuo nei prossimi tempi e per questo la ringrazio ancora e arrivederci.